allora lavorazione a fili passati vi faccio vedere come lavoro io vedete che ci sono tutti i fili passati sul dietro del lavoro sto facendo un baretto e le tre coste e c'è la lavorazione colori allora adesso devo fare una maglia rossa una maglia bianca come tengo i fili io allora un gomitolo sopra un gomitolo sotto vedete e l'impugno così tutte e due dentro le mani così solo che ad esempio io adesso devo lavorare per primo il rosso adesso vi faccio vedere infilo tiro sul rosso e lo lavoro poi lo lascio andare giù e tiro sul bianco e lo lavoro e come prima tiro giù il rosso il bianco tiro sul rosso tiro giù il rosso e tiro sul bianco e vado avanti così senza mai incrociarli mi raccomando sempre uno sul davanti e uno sul dietro aiutandomi anche con l'altro dito vedete ora sul bianco ora sul bianco adesso il bianco e il rosso lo tiriamo giù tiro sul bianco e lavoro infilo tiro giù il bianco tiro sul rosso e lavoro e continuiamo così fino alla fine della riga adesso vabbè perché devo farne uno e uno quindi si vede bene quindi un rosso tiro giù e un bianco tiro su un rosso e un bianco poi vi viene vi viene facile poi eh un bianco e un rosso un bianco e un rosso così io li tengo tutti e due sulla sinistra perché con la mano destra non so assolutamente lavorare io quindi mi sono arrangiato con questo metodo che secondo me è abbastanza veloce vedete perché io ho provato con il tendifilo cioè l'anellino dove ho infilato i due fili ma io non riesco a lavorare col filo col dito teso perché io lavoro mi sembra che si chiama ergonomico quindi con il dito molto vicino al lavoro allora ho trovato questo modo dove alterno i due fili il lavoro rimane bello morbidino e si va diciamo abbastanza veloci perché poi tenendo su due i fili dentro la mano non è perché io prima facevo così uno lo lasciavo sotto e tenevo solo quello che lavoravo quindi lavoro il rosso lascio il rosso prendo il bianco lavoro il bianco lascio il bianco prende rosso lavoro il rosso c'era il rischio che intrecciava i fili invece facendo in questo modo qua tutte e due i fili nella mano prendo uno e prendo l'altro prendo uno e prendo l'altro poi dopo un po' vi viene in automatico questo lavoro qua e non rischiate che i fili vi si ingarbulino ok questo è quello che vi volevo mostrare oggi provateci perché io esattamente un anno fa avevo fatto la mia prima prova e adesso già il secondo il secondo il terzo cappellino che faccio vedete questo è uno finito da uomo questo invece quello da donna e mi piace mi sta piacendo abbastanza prima o poi mi butto in un maglione prima o poi si vedrà io vi saluto buon inizio settimana e al prossimo video mi raccomando lasciatemi un like e commentate commentate lasciatemi un commento se pensate ditemi comunque voi come lavorate a colori ciao